Buona giornata a tutti e buone feste a tutti quanti. Ricordo che oggi non sono andato in onda alle ore 15, sono Claudio Simeoni con la solita trasmissione di magia Stragonaria Paganesimo che mi è in onda ogni giovedì ma alle ore 15 non sono andato in onda per problemi e faccio la trasmissione dalle ore 19 alle ore 20. Naturalmente non leggerò il libro dell'Anticristo oggi perché penso che le persone stiano a festeggiare e stiano divertendosi in giro. Vorrei ricordare, dopo ricorderò tutte le feste pagane in questo periodo da Leopaglia ai Saturnalia al Sole Invicto alla festa di Ecate, alla festa di Dagda primo gennaio, il capodanno e la festa di Giano comunque sarò in trasmissione alle ore 15 il primo di gennaio, il capodanno con la trasmissione normale. Nella trasmissione di oggi che non faremo il libro dell'Anticristo presenterò la primissima trasmissione che avevo fatto ancora il 21 novembre del 1996 la prima volta che sono venuto a Radiogamma era una trasmissione di presentazione e oggi, visto che tutti quanti saranno a festeggiare e poche persone in ascolto voglio rileggere la presentazione che avevamo fatto allora. Il paganesimo politeista è la relazione fra gli esseri umani e le coscienze del mondo circostante relazione troncata dall'arrivo delle religioni rivelate che hanno imposto un dio padrone davanti al quale gli esseri umani dovevano inginocchiarsi Alcuni pagani cercarono una spiegazione a questo orrore trasformandosi in stregoni portando il loro corpo luminoso a viaggiare nei mondi della percezione Scoprirono l'energia vitale stagnata come fine del fare delle religioni rivelate sconosciuta nel paganesimo antico Scoprirono le tre nature del dio dei cristiani Primo il dio creatore dell'universo non esiste Secondo esiste un essere o degli esseri di energia che traggono forza dall'energia vitale stagnata prodotta da esseri umani in ginocchio resi incapace a risolvere i loro problemi posti dalla vita Terzo esiste la descrizione biblica di un dio pazzo che terrorizza chiunque non fa ciò che lui vuole Così partendo dall'orrore e dal terrore cristiano Con l'aiuto delle coscienze di sé del circostante gli stregoni iniziarono un percorso di libertà nella società umana il cui scopo era ed è portare gli esseri umani a prendere nelle proprie mani il proprio divenire impedendo al dio dei cristiani di metterli in ginocchio Gli stregoni hanno l'aiuto delle coscienze di sé del circostante perché il cristianesimo è distruttivo nei confronti di tutto il circostante come dimostra il Gesù nella relazione col ficco Pertanto il paganesimo non è un'altra religione ma è la religione in quanto solo il paganesimo lega l'essere umano al circostante il cristianesimo sottomette l'essere umano ad un inesistente dio imposto vediamo un attimino un esistente dio imposto col terrore Pertanto non si può distinguere il percorso di costruzione del paganesimo come religione dall'orrore cristiano in quanto questo è introdotto nella vita degli esseri umani la pulsione di morte bloccandone i flussi dell'energia vitale per averli costretti bestiame in ginocchio davanti al loro dio quando parleremo del paganesimo parleremo sempre della malvagità del dio cristiano e delle menzogne del Gesù di Nazareth con particolare riferimento alla truffa sulla resurrezione della carne il nostro scopo il nostro scopo è quello di diffondere il pensiero pagano unica condizione affinché gli esseri umani trasformino la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso attraverso lo sviluppo del proprio potere di essere questo può avvenire soltanto quando gli esseri umani prendono nelle proprie mani il proprio divenire in ogni istante della loro esistenza vediamo un attimo ancora scusate questo può avvenire soltanto quando si costruisce la propria libertà in ogni istante della propria esistenza senza togliere la libertà da altri esseri della propria specie questo può avvenire soltanto quando si sente qualcuno dire vi farò pescatore di anime anziché identificarsi col pescatore ci si identifica col pesce mentre frigge in padella e allora si stringe i pugni e i denti rivendicando il diritto allo sviluppo del proprio potere di essere iniziando un percorso di liberazione dall'orrore cristiano chiedendo al circostante di camminare al proprio fianco lungo un sentiero che porta alla reciproca eternità questa fu la presentazione che facemmo come pagani e politeisti e apprendisti stragoni nel novembre del 1996 perché facciamo questa presentazione per non confondere per non confondere le idee e le cose cioè noi non volevamo e non vogliamo mettere un dio al posto di un dio una festa al posto di una festa un concetto al posto di un altro concetto noi questo non ci interessa assolutamente noi vogliamo costruire un percorso vogliamo seminare delle idee seminare dei pensieri delle idee dei pensieri che sono idee e pensieri soggettivi cioè sono scelte dell'individuo che costruisce se stesso in pratica noi a noi interessa lanciare un segnale a tutte quelle persone che sentono il mondo in maniera diversa da come gli è insegnato e sappiano che esiste qualcuno che sente il mondo come loro dopodiché ognuno può seguire la propria religione ognuno può seguire la propria fede a noi non interessa vediamo un attimino alle feste di questo periodo vediamo le feste di questo periodo ah sì dai parliamo del Natale il Natale vediamo un attimino il giorno di Natale quando è nato il giorno di Natale voi sapete quando è stata istituita la festa del Natale allora ve la racconto io il Natale ve la racconto da un libretto che ho il Natale è un'amalgama delle tradizioni provenienti da varie culture che si sono accumulati nel corso di secoli l'idea di festeggiare la Natività il 25 dicembre fu avanzata dapprima all'inizio del quarto secolo cioè praticamente si celebra il Natale si è pensato di celebrare il Natale 400 anni dopo Cristo perché intelligentemente dice sto libro io dico furbescamente i cosiddetti padri della chiesa desideravano eclissare cioè fa sparire la festività del 25 dicembre che apparteneva ad una religione rivale e minacciava l'esistenza del cristianesimo è importante notare che due secoli dopo la nascita di Cristo cioè praticamente dopo 200 anni nessuno sapeva esattamente quando fosse nato e ciò importava a ben pochi i compleanni non avevano importanza erano le date di morte quelle che contavano inoltre il Cristo era divino e la sua nascita naturale veniva deliberatamente minimizzata come abbiamo già detto la chiesa arrivò al punto di annunciare ricordatevi bene questo punto al punto di annunciare che era peccato pensare di festeggiare il compleanno di Cristo come se fosse un faraone pertanto tutti quelli che oggi hanno festeggiato il Natale come nascita di Cristo per i cristiani per il Papa per tutti quelli che erano fino al 400 commettevano peccato e andavano all'inferno per cui tutti i cristiani che hanno festeggiato oggi per allora andavano all'inferno oggi no hanno cambiato le regole per andare all'inferno vari teologi appostati tuttavia cercarono di determinare con esattezza le date della natività e ottenne una serie di date confuse primo gennaio sei gennaio venticinque marzo e venti maggio in seguito quest'ultima cioè il venti maggio divenne una delle date preferite perché il Vangelo di Luca afferma che i pastori ricevetero l'annuncio della nascita di Cristo quando facevano la guardia alle loro pecore di notte i pastori tenevano d'occhio le greggi di notte e giorno soltanto nel periodo in cui nascevano gli agnelli ovvero in primavera in inverno gli agnelli nascono anche in inverno in inverno gli animali venivano tenuti in recinti e per cui non erano custoditi ciò che alla fine determinò la scelta della data attuale fu la crescente popolarità della religione che rappresentava il maggior rivale del cristianesimo ed è il mitrianismo il 25 dicembre i romani pagani non i romani pagani un imperatore comunque era un paganesimo che stava un tipo di paganesimo era un misterico una legge misterica il 25 dicembre i romani pagani che erano ancora in maggioranza celebravano il natalis sole invicti cioè i natali del sole l'invincibile sole di Mitra il culto era nato in Persia e aveva messo radici nel mondo romano nel primo secolo avanti Cristo nel 274 d.C. il mitrianesimo era talmente popolare fra le masse che l'imperatore Aureliano lo proclamò religione ufficiale di stato all'inizio del 300 il culto mise seriamente in pericolo la cristianità e per un certo periodo non fu chiaro quale sarebbe stata la fede che sarebbe emersa vittoriosa i cosiddetti padri della chiesa discussero le possibilità che si presentavano loro si sapeva benissimo che i romani sia patrizi che prebei amavano molto le festività che si protraevano nel tempo dopo vi parlerò di alcune festività in questo periodo erano state poste le basi di tale tradizione nel lontano 753 avanti Cristo quando Romolo fondò la città di Roma sul colle Platino non era soltanto la ricorrenza del Natale solo in Victus ad essere occasione di banchetti e sfilati lo stesso avveniva per la celebrazione di Saturnalia in onore di Saturno c'erano anche Leopaglia dopo ve lo dirò un attimo e la chiesa aveva la chiesa cattolica aveva bisogno di celebrare a sua volta qualcosa nel mese di dicembre cioè celebrare qualcosa qualunque cosa inventiamoci qualcosa facciamo finta che tanto facciamo finta che dopo qualcuno ci crede e per competere con forza contro la festa di coloro che adoravano il sole la chiesa stabilì che il giorno della natività fosse il 25 dicembre la ricorrenza sarebbe stata osservata con il caratteristico sistema di preghiera ovvero con la messa di Cristo allora il 25 dicembre i cristiani celebrano il Natale e il Natale oggi come oggi è una festa cristiana e gliela lasciamo volentieri facendo la messa ma ci sono anche altre tradizioni non ricordiamoci c'è la tradizione per esempio della strenua della strena e strenua è la divinità della salute sabina allora fare regali nel giorno di Natale è fare un rito di omaggio a strenua ce ne sono anche altre tradizioni ma quelle altre ve le dico dopo vediamo un attimino un'altra cosetta molto divertente ed è il discorso dell'albero di Natale l'albero di Natale venne inventato nel 700 circa dopo Cristo e fa parte di una specie di anedottica in cui si narra che un tale Bonifacio nato a Winfried nel 680 dopo Cristo si è messo a predicare il cristianesimo fra i pagani sassoni naturalmente sappiamo che la predicazione di Bonifacio era una predicazione sterile i pagani sassoni vennero convertiti dai massacri di Carlo Magno Carlo Magno massacrò tutti i pagani e il capitolato sassone di Carlo Magno è uno degli editti più infami che esista nell'intera cristianità e si dice la leggenda racconta leggendo la storia una importanza che Bonifacio per convertire i pagani abbatte una grande quercia la quercia Lobbe che era sacra e lui voleva convincere i pagani che lui poteva tranquillamente abbattere la quercia senza che succedesse niente io posso entrare in qualsiasi chiesa cristiana distruggere se questo fosse il mio intento e non mi succederebbe assolutamente niente salvo che la polizia mi piglia e mi mette in galera tanto per essere chiaro e lui fece abbattere questa gigantesca quercia dimostrando che poteva violarla come se un albero non si potesse tagliare la quercia nel cadere si fece a pezzi e travolse tutto sul suo percorso meno che un piccolo abete naturalmente questo simbolismo viene interpretato Bonifacio prese la parola del bacio e dice ecco questo è l'alberello di Gesù bambino che bello facciamo l'alberello di Gesù bambino ogni Natale in realtà la quercia non gliene fregava niente la quercia permise a tutti gli esseri umani di concentrare la propria attenzione sugli abeti nel senso che comunque il lato verde della vita comunque la foresta sarebbe entrata comunque nel cuore degli uomini anche se i cristiani avrebbero abbattuto tutte le foreste sacre solo per il gusto di distruggere le foreste ricordiamoci i cristiani hanno abbattuto le foreste solo per il gusto di abbattere non perché ce ne fosse necessità non perché avevano bisogno di legno o qualche altra cosa e questa è la tradizione dell'albero di Natale vediamo un altro pochetto alle festività di questo periodo le festività di questo periodo allora ce n'era un sacco a Roma in realtà non è che si possa dire in quel giorno si fa questa festa o nell'altro giorno si fa un'altra festa perché in questo periodo tutte le festività erano legate fra di loro scusate un attimo erano legate fra di loro la più importante di queste festività a livello romano erano i Saturnalia cioè erano le celebrazioni in onore di Saturno bisogna capire esattamente che cosa sia Saturno per Roma Antica Saturno è l'essere umano che si fa Dio va nello sconosciuto che ci circonda prende le cose le informazioni che gli servono per la specie cui appartiene per i bisogni della specie cui appartiene ritorna dallo sconosciuto e riporta quelle cose che servono alla specie cui appartiene Saturno è l'essere umano insieme a Giano che insegnano agli esseri umani a coltivare la terra a darsi leggi a rispettare le leggi che insegna la scrittura credo anche che insegna a vivere in modo diverso che insegna agli esseri umani a costruire il futuro è importante questo perché in tutto il paganesimo noi troveremo tutte le divinità come descritte che camminano insieme agli esseri umani cioè hanno bisogno che gli esseri umani siano ricchi siano forti per essere forti loro stesse cioè non si appropriano le divinità pagane non si appropriano degli esseri umani al contrario ci camminano assieme e Saturno è l'essere umano che si fa Dio e riporta agli esseri umani quanto egli trova ogni coscienza si fa Dio nel paganesimo perché ogni coscienza sviluppa se stesso ma Saturno è quello legato è la coscienza dell'essere umano legata alla specie umana non è lo stregone che si fa i affari suoi per i fatti suoi non gliene frega niente di nessuno è una figura specifica ebbene l'uso di scambiarsi i doni durante i Saturnali i Saturnali si venivano a festeggiare credo dal 19 dal 17 dicembre cominciavano avevano luogo per 4 o 5 giorni l'uso di scambiarsi i doni durante i Saturnali come i ceri accesi che si portavano intorno era simbolo ad un tempo della nuova luce venuta dagli ammaestramenti di Saturno e del calore quale elemento indispensabile alla produzione della vita durante i Saturnali ogni differenza di persone cioè di ceto sociale doveva scomparire e di servi col pileo dell'uomo libero sul capo cioè coi simboli dell'uomo libero sul capo banchettavano insieme coi padroni quale ricordo dell'uguaglianza antica anzi venivano anche serviti dei padroni cioè in pratica durante i Saturnali si ricordava al padrone che in fondo lui non è niente cioè se lui non avesse la forza non avesse il potere non è niente per cui gli si chiede al padrone il rispetto e venivano cambiati i ruoli venivano capovolti i ruoli altrettanto vedemmo farsi nelle matrone alle calende di marzo che si chiamavano appunto per quelle per simile scambio di doni i Saturnali delle matrone è importantissimo tutto questo perché un sistema sociale se si arrocca nella sua struttura nella divisione all'interno e fissa la divisione al suo interno cioè come casta come come marginati come qualsiasi cosa tende ad appassire e allora è necessario rinnovare sempre il ricordo del cammino all'interno del quale svilupparsi oltre ai Saturnali avevamo ancora tre feste a cavallo ed erano le Opaglia le Divaglia e la Rentalia il 19 il 21 e il 23 dicembre dice in particolare di queste tre di queste tre feste quello che mi interessa più sottolineare è Ope Opium Opi io la chiamo Opi più che altro e Opi è la moglie di Saturno cosa insegna Saturno agli esseri umani insegna a costruire insegna a coltivare la terra insegna a il lavoro che costruisce l'essere umano la moglie di Saturno è Opi ed è quella che dà il nome opulenza la ricchezza che è la ricchezza che viene attraverso la costruzione cioè solo l'essere umano che costruisce solo una società di esseri umani che costruiscono possono accumulare ricchezza quando voi avete fatto ieri sera la cenone di Natale oggi pomeriggio abbiamo fatto il pranzo il pranzo di Natale in realtà non è cristiano cioè non è stato celebrato la natività cristiana quella l'avete fatto se siete andati a messa ma col pranzo avete celebrato Opi cioè in pratica avete manifestato l'opulenza e la ricchezza che è venuta dal vostro lavoro dal vostro affare durante l'anno quando si dice facciamo il pranzo per i poveri e questo è sempre un onorare Opi cioè è sempre il tentativo di distribuire l'opulenza anche se poi questo più inganno e più serve più che altro per mettersi in pace la coscienza da parte del cristianesimo che si dimentica il resto dell'anno come vanno le cose però in realtà questo è onorare Opi allora abbiamo visto che in pratica in questi giorni di festa non si è fatto altro che ripetere dei rituali pagani i rituali pagani vengono cancellati dalla memoria oggettiva della memoria di tutti i giorni e calano nel cuore degli esseri umani cioè anche se a me il cristianesimo mi impone di credere il Natale in un certo modo mi fa dimenticare e dimentico cosa è stato una volta dimentico i simboli eccetera il paganesimo siccome è messaggio del mondo che mi circonda è tensione del mondo che mi circonda il paganesimo si cala nel cuore degli esseri umani cioè si relaziona comunque nel cuore degli esseri umani noi nelle trasmissioni che facciamo ogni giovedì dalle ore 15 alle ore 16 e 30 stiamo parlando in questo periodo un piccolo ciclo di alcuni paganesimi abbastanza piccoli e andiamo a definire cosa sono le varie divinità di quei paganesimi cos'è che vogliamo fare descrivendo quei paganesimi non è che siano importantissimi i paganesimi in sé abbiamo già detto che nei paganesimi i nomi hanno poca importanza è la forza che viene espressa è la divinità del circostante che si immerge in noi come immagine per quanto noi riusciamo a percepire allora di quei paganesimi cos'è che ci interessa ci interessa stabilire trovare delle connessioni che determinano come le divinità del mondo circostante le tensioni del mondo circostante siano oggetti perché l'albero è un oggetto perché una montagna è un oggetto perché un fiume è un oggetto perché un luogo è un oggetto perché la fonte è un oggetto cioè abbia una struttura materiale una struttura fisica e nello stesso tempo hanno una coscienza hanno una percezione hanno una struttura di energia vitale e quando noi abbiamo finito quel ciclo di paganesimi andiamo a stabilire gli altri due canti del mondo cioè esistono quattro canti del mondo due canti appartengono all'individuo al soggetto che guarda il mondo io sono materia io ho una materialità un corpo che muore però ho anche una coscienza ho anche una percezione del mondo allora la mia materialità la descrizione che uso io per il mondo normalmente è un canto del mondo la mia percezione è il secondo canto del mondo ma anche l'oggetto che io percepisco è materia spesso non sembra spesso ed è un canto del mondo e anche lui ha una coscienza e questo è l'altro canto del mondo allora le relazioni nel paganesimo noi vedremo che sono sempre relazioni fra soggetti non esiste una relazione fra un soggetto e un'oggettività ma esiste sempre una relazione fra un soggetto e un altro soggetto e vedremo nei quattro canti del mondo applicando il crogiolo d'ostregone nei quattro canti del mondo come avvengono le relazioni per cui anche se gli esseri umani hanno dimenticato cos'era l'alibagione per esempio in quei giorni l'alibagione comunque che noi facciamo in questo momento è sempre un onorare è sempre un rito che noi facciamo di ringraziamento al mondo che ci circonda è una esposizione del nostro fare che ci permette di svilupparci scusate una benissimo sono arrivati i ragazzi che parleranno dopo di me questo è importantissimo però c'è anche ciò che dal paganesimo porta invece ciò che dal paganesimo porta invece alla distruzione del paganesimo tende a distruggere il paganesimo e il passaggio avviene tra il paganesimo e il misterico cioè il lato misterico le religioni misteriche che sono sempre pagane cioè sono sempre rivendicate del paganesimo e il possesso e la religione del possesso proviamo a vedere un attimino uno di questi uno di questi passaggi che secondo me è il più importante che ci sia stato voi vi ricordate che abbiamo parlato se qualcuno ha seguito della religione degli Urriti che diventava la religione siriana che aveva una serie di divinità bene ho già accennato al fatto che Gesù dei cristiani come descritto dai Vangeli e ufficiali non è mai esistito cioè Gesù di cristiano non è mai esistito ma è esistita infatti la data di nascita non si può sapere per semplicemente perché non è mai esistito ma è esistita la divinità pagana dalla quale i cristiani hanno depravando negli insegnamenti nella direzione della sottomissione cioè sto parlando sempre di Vangeli ufficiali eh tratto l'immagine del loro Gesù ed è il Fenicio Adone seguito a Tiro a Biblos e aveva anche un tempio come vedremo a Betlemme il termine Adon in Fenicio significa Signore la connessione col termine ebraico Adonai significa mio Signore mi sembra abbastanza evidente Adone era una divinità della rinascita Adone risorgeva ad ogni stagione non so se questo vi dice qualcosa Adone era l'identificazione del principio maschile all'interno della natura che si relazionava con gli esseri attraverso Afrodite nell'ebraismo voi non trovate la rinascita non esiste il concetto di rinascita nell'ebraismo il concetto di rinascita è un concetto misterico è un concetto dei riti misterici dei fenici Adone e che poi ci sono tutti i passaggi perché ricordiamo che nel 330 arriva arriva a passare i fenici arriva in Fenicia e in Palestina arriva arriva Alessandro Magno con tutti i filosofi greci Adone era destinato era destinato da Giove a stare un terzo della vita da solo un terzo con Persefone lo scuro che cresce e un terzo con Afrodite il che significa che la vita fetale Adone la passa da solo la vita prepuberale la passa con Persefone e rappresenta la costruzione dell'essere umano adulto l'ultimo terzo della vita la passa con Afrodite che prepara la morte fisica e risorgere al nuova vita cioè attraverso Afrodite cioè attraverso il sesso attraverso il piacere sessuale attraverso le manifestazioni dell'essere umano adulto si costruisce l'essere luminoso cioè si risorge la coscienza continua a vivere tutto questo passaggio è ben evidenziato nei Vangeli Gnostici relativa alla figura di Gesù i Vangeli ufficiali invece descrivono il lato nero della figura il padrone che pretende sottomissione a critica degli esseri umani ricordo che per festeggiare Adone nei riti misterici greci si festeggiavano le Adonaidi feste con rituali propri che avevano luogo in primavera durante le feste si solennizzava la morte di Adone con canti lamenti e cori poi si passava a festeggiare la gloria del ritorno e la rinascita ad Atene si usava a piantare dei semi in recipienti che crescevano molto in fretta cioè i semi crescevano molto in fretta e molto in fretta passivano questi simbolismi stavano ad indicare la fugacità e la temporalità della vita terrena grazie e l'importanza della rinascita e della morte per la grazie salute e auguri grazie grazie per buon Natale vabbè mi sono beccato anche questa oggi praticamente il piantare i semi diceva guarda che tu hai questa vita nella quale hai la possibilità di costruire il tuo corpo luminoso dopodiché dopodiché appassisci la rinascita la rinascita di Adone il rinascere era la nascita del corpo luminoso che la vita fisica costruiva vi ho già parlato degli urriti e dei vari popoli che passavano in quelle terre vi leggo un passo da John Allegro il fungo sacro e la croce questo è un docente universitario che ne ha scritte di Corte di Crude dice questo John Allegro sia le parole semitiche che quelle greche per Cristo l'unto il macchiato derivano dai termini sumerici per sperma o linfa resinosa maschesem penso di pronunciarlo giusto usati come titoli descrittivi in questa lingua apparivano come un uomo masche esorcista cioè il sacerdote che scaccia i demoni ricordo che i demoni erano i demoni parsiani non era daimon greco o come uomo sem colui che fa i profumi l'equivalente del miselatore di oli santi nel nuovo testamento i semiti combinavano inoltre le due parole sumeriche in una nuova radice shimsh servire significa servire tavola come cameriere cioè il cameriere che serve a tavola il tempio come sacerdote cioè il sacerdote che serve nel tempio angelo che serve il trono celeste e i genitali come pene e vulva cioè servire il sesso così la parola significa cameriere sacerdote angelo o prostituta una forma indipendente derivata venne usata in tempi remoti per il più grande copulatore di tutti il sole in ebraico shemesh il cui glande infuocato ogni sera si immerge fiammeggiante nella vulva aperta della terra e ne riemerge la mattina con uno sposo che esce dal suo talamo salmi 186 dunque che il culto misterico di Adone è rappresentato dai vangeli gnostici quelli che la chiesa cattolica ha rifiutato perché non sono funzionali a mettere in ginocchio gli esseri umani e che hanno al loro centro lo sviluppo della scintilla divina data da Sofia in uno dei vangeli questi vangeli gnostici sul quale io sto lavorando da parecchio tempo e troviamo Gesù disse se coloro che vi guidano vi dicono ecco il regno di Dio e il regno è in cielo allora gli uccelli del cielo vi precederanno se vi dicono è nel mare allora i pesci del mare vi precederanno il regno è invece dentro di voi e fuori di voi quando vi conoscerete allora sarete conosciuti e saprete che voi sarete i figli del padre che vive ma se non vi conoscerete allora dimorerete nella povertà e sarete la povertà in pratica cos'è che dice questo passo di questo Vangelo che il regno non è il Dio che ve lo dà sta dentro di voi e voi dovete svilupparlo per giungere al regno che è fuori di voi cioè alla coscienza all'energia agli dèi al divino che vi sta attorno ricordate questo questo non ha nessun riscontro nell'ebraismo nella Bibbia questo ha riscontro nei culti misterici e non ha nemmeno riscontro fra parentesi neanche negli esseni questo è frutto dei riti misterici che venivano dai fenici e in particolare i misterici di Adone mentre i Vangeli ufficiali continuarono la tradizione del terrore ebraico veniamo ad un altro particolare che ci permette di conoscere il legame fra Adone e l'impostura cristiana a Bethlehem nel 330 Costantino per soddisfare i pruriti della madre Elena fece costruire una basilica cristiana credo si chiami la basilica della natività su una grotta ritenuta quella della natività ebbene per far questo distrussero sia il bosco sacro di Adone e il tempietto che c'era ben più modesto della basilica che edificarno dedicato a questo divino anche se l'agnosi ha molti riferimenti con le dottrine ebraiche in realtà è di origine pagana ed obbedisce ai passaggi della costruzione del corpo luminoso quello che a Roma sarà chiamato genio e nella Grecia daimon che nulla avrà a che vedere con i demoni persiani e babilonesi ma che saranno un vero obiettivo della distruzione cristiana il pericolo dei riti misterici nel paganesimo è oggetto di uno studio d'analisi di stregoneria legato al paganesimo che sto facendo il passaggio dal concetto secondo cui il soggetto salva se stesso attraverso un percorso di conoscenza e consapevolezza a quello di un soggetto che viene salvato dall'oggetto a cui si è soggettato rappresenta il pericolo i culti misterici rappresentano una contraddizione del sentire pagano una contrazione scusate del sentire pagano mentre nel paganesimo il sentire pagano si esercita attraverso ogni azione della giornata nei culti misterici esistono delle scadenze da rispettare ma non è necessario trasferire la ritualità nell'esistenza quotidiana se nel paganesimo il divenire è costruito in ogni istante qualsiasi azione si compie nelle vie misteriche il divenire è costruito dai riti eseguiti in quelle scadenze è facile che si dimentichi la magia del quotidiano per concentrarsi sulla magia del rito e della scadenza chi controlla il rito e la scadenza controlla il sentire umano questo è il pericolo questo è avvenuto nella degenerazione del culto di Adone quando alcuni pazzi ignoranti assetati di controllo delle persone ne scopiazzarono la forma per distruggere la via della conoscenza e sottomettere gli esseri umani in pratica cosa è successo che i riti di Adone e di altri culti misterici si stavano sviluppando e qualcuno ha pensato bene di servirsi di alcune variabili per sottomettere gli esseri umani e da qui è nato il cristianesimo ufficiale dunque non esiste nessun riferimento storico che possa dire quando sia nato il Gesù di Nazareth perché il Gesù di Nazareth non è mai nato il termine credo il termine Gesù credo sia stato un termine generico per definire una persona che aveva delle funzioni all'interno proprio dei riti di Adone e di altri riti pertanto è una cosa abbastanza abbastanza tirata naturalmente dopo il tempo passa i documenti vengono bruciati vengono distrutti alcuni altri marciscono chi è addetto a ricopiare i documenti ricopia quello che gli piace a lui per cui c'è una selezione sistematica delle cose e si dimentica il passato ma il passato ci circonda il passato ci circonda e ci viene incontro e ci dice occhio ragazzi qui ci sono io bene scusate un attimo io avrei finito un attimino se qualcuno vuole telefonare ricordo che il numero di telefono è 049 700 700 andiamo andiamo pure avanti con le cose ricordo che con l'istituto militerraneo studi politisti stiamo organizzando una conferenza in centro a Treviso che allo scopo è la terza conferenza sarebbe la terza che facciamo di esporre i concetti del scusate del paganesimo e della stregonaria in pratica il paganesimo non è ciò che i cristiani dicono che sia il paganesimo è ciò che noi diciamo che sia cioè io tutti quelli che appartengono all'istituto mediterraneo studi politisti tutti quelli che si relazionano con soggetti divini che ci circondano solo loro possono dire che cos'è il paganesimo solo chi percorre un sentiero di stregonaria può dire che cosa sia la stregonaria gli altri usano questo soltanto per portare a quel proprio mulino ricordo che nella conferenza che faremo a Treviso il 7 febbraio la faremo il 7 febbraio vi darò i dati a mano a mano che mi affluiranno la prossima settimana giovedì Francesco non c'è ci sarà fra 15 giorni e fra 15 giorni avremo i dati precisi sia l'orario il luogo me l'ha già detto il luogo però non me lo ricordo più sinceramente non mi sono preso nota e vi darò tutti i dati quando trarremo quella conferenza con quella conferenza in 45 minuti circa 45 minuti un'ora di esposizione andiamo a esporre genericamente tutti quanti gli elementi che concorrono alla formazione del pensiero pagano e della stregonaria per cui se uno viene ad assistere a quella conferenza in 45 minuti un'ora anche se la cosa sarà abbastanza pesante perché ogni concetto è formulato in poche parole cioè è formulato in maniera stringata però può farsi una panoramica di quello che è il nostro pensiero di cos'è il paganesimo politeista e che cos'è la stregoneria dopodiché seguirà come sempre un dibattito in cui ognuno dirà le proprie cose questa è la terza conferenza che facciamo ricordo che la prima è stata tenuta a Marghera nel settembre 1976 la seconda è stata tenuta il 28 mi sembra giugno a Vicenza in centro a Vicenza e questa terza terremo a Treviso e proseguiremo di città in città dove è possibile farlo cioè chiaramente noi non siamo né milionari non abbiamo soldi cioè non è che abbiamo grandissime possibilità facciamo quello che possiamo e dove possiamo noi possiamo sostenere tranquillamente anche una conferenza al mese volendo però non è che abbiamo la possibilità di pagarci di pagarci quanto basta per una conferenza al mese facciamo per cui quello che possiamo insomma nello stesso tempo cerchiamo di diffondere il pensiero pagano proprio per consentire alle persone che hanno un sentire simile al nostro di orientarsi dico beh c'è anche quell'idiota di Claudio Simeoni che trasmette a radiogramma e che dice delle cose dice una marea di stupidaggini però quella cosa che vedo quella volta mi interessa perché io ho sentito uguale e questo per noi è importante cioè è importante che le persone che sentino le cose come noi che hanno le stesse sensazioni non si sentino sole un ringraziamento particolare a una persona a una certa Anna credo Anna di Quinto spero che oggi eccezionalmente sia in ascolto se mi va bene questa amica perché il ringraziamento perché questa amica qua mi aveva consigliato molti mesi fa quando sentiva quando mi telefonavo quando aveva le possibilità di leggere un libro e un ucchi per il regno dei cieli io quel libro non l'ho letto però mia moglie l'ha insistito lo ha comperato lo ha letto me ne ha letto parecchi passi e le robe da mettersi le mani e i capelli io consiglio a tutte le persone in particolare alle donne di leggersi quel libro è un libro di storia di anedotica molto molto semplice da leggere però capirete che cos'è la chiesa cattolica proprio partendo dai padri della chiesa cioè che razza di gente siano questi ed è uno studio fatto da una fatto da una teologa tedesca per cui un ringraziamento molto particolare a sta amica Anna bene andiamo avanti ancora e ci tratteremo di un'immagine un'immagine di cui abbiamo abbiamo appena appena accennato l'immagine che abbiamo accennato è Saturno adesso appena lo trovo vi leggo un attimino di Saturno vi ricordo che Saturno è un'immagine fondamentale nella religione nel paganesimo antico però la stessa cosa noi la ritroviamo la ritroviamo in tutti i paganesimi cioè tutti i paganesimi hanno un'immagine tipo Saturno beh vediamo un attimino Saturno quando un essere umano può essere considerato un dio quando forzando i confini del proprio esistere fa gocita sapere e conoscenza e con esse conduce l'oggettività in cui vive a trasformarsi migliorandone la soddisfazione dei bisogni i sognatori attraverso gli infiniti mondi della percezione i guardiani affrontando le contraddizioni dell'esistente costruiscono il corpo luminoso nell'oggettività che li ha generati e nella quale vivono mentre il missionario cristiano saccheggia l'oggettività per appagare il proprio bisogno di miseria e di arrogante superiorità il guardiano costruisce se stesso in relazione all'oggettività in cui vive costruendo se stesso costui trascina o contribuisce a trascinare il sistema sociale in cui vive migliorandone le condizioni di esistenza a volte il guardiano fallisce ma si forgia provandoci altre volte i risultati non sono appariscenti a volte sembra che le cose vadano nel verso opposto a quello desiderato dal guardiano qualche volta il suo intervento è tanto importante da cambiare la rotta del divenire del sistema sociale stesso Saturno è il guardiano Saturno è l'essere umano che vive sviluppando il proprio potere di essere in relazione col sistema sociale in cui è nato Saturno è l'essere che non si è contenta dei risultati fin qui raggiunti dal sistema sociale ma lo forza per migliorarlo Saturno non dice è tutto sbagliato Saturno dice va tutto bene ritocchiamo e miglioriamo questo o quell'aspetto i miglioramenti di Saturno avvengono mediante l'uso delle mani mediante il lavoro non mediante l'imperio del comando o dell'ordine attività propria del comando sociale dedito all'esercizio della propria sopravvivenza mediante lo sviluppo del proprio potere di avere Saturno opera non comanda di operare per il fatto di agire un passo più avanti dello sviluppo del sistema sociale in cui vive egli diventa il trascinatore il re il dio concetti assolutamente estranei al dio padrone dei cristiani il potere di essere pervade il regno di Saturno è il potere di essere l'essenza dell'età dell'oro di Saturnalia memoria quando il comando sociale non era ancora impregnato di potere di avere quando non era necessario accumulare la ricchezza e possedere schiavi quando il concetto di giustizia era equilibrio fra le parti e non un'organizzazione funzionale alla sottomissione degli esseri umani più deboli all'interno del sistema sociale in funzione dei bisogni del comando sociale Saturno insegnò a coltivare la terra ripeto insegnò a coltivare la terra Prometeo ruba il fuoco agli dei per donarlo agli esseri umani per questo viene precipitato dagli dei negli abissi cosa ne facevano gli dei del fuoco ne nascondevano l'esistenza per terrorizzare e dominare gli esseri umani perpetrandone la sottomissione Prometeo ruba loro il fuoco e lo regala non lo vende o lo baratta agli esseri umani Prometeo combattere gli dei per donare la scintilla di libertà agli esseri umani così Saturno non baratta il suo sapere né lo usa per dominare gli esseri umani forse per questo con la voce che Zeus non giove lo precipitò dall'Olimpo cacciandolo dalla Grecia ma lo regala cosa riceve in cambio Saturno essere circondato da esseri umani più felici con meno angosce con negli occhi e nelle mani la speranza e non la disperazione e l'impotenza un'ottima base per un guardiano dalla quale spiccare il volo trasformando la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso perché Saturno viene considerato un dio infernale perché il guardiano è in grado di percepire il lato nero della luce il lato nel quale le cose esistono in potenza in attesa che le condizioni le rendino manifeste questo è un aspetto riferibile anche a Conso vivere il lato nero della luce è una prerogativa del guardiano solo il guardiano attraverso il continuo forgiare se stesso può attingervi l'essere umano comune è ristretto entro i muri del proprio divenuto è bloccato dal proprio condizionamento educazionale le feste di Saturno erano l'uscita dal buio come il guardiano estendendo al sistema sociale in cui vive il suo sapere le sue intuizioni la sua percezione spinge il sistema sociale verso una nuova luce così la fine del mese di dicembre è la fine dei corti e freddi giorni dell'inverno il sole inizia un nuovo ciclo e il sistema sociale si avvia ad una nuova primavera le feste le feste erano licenziose scandalo gridavano i preti cristiani per i cristiani la vita deve essere dolore per i loro servi come si permettono i pagani di godere di piacere di sesso per i cristiani il sesso deve essere trasformato in fobia in violenza mai in reciproco piacere durante queste feste gli schiavi comandavano i padroni servivano a tavola non cambiava certo la relazione sociale ma serviva a ricordare ai padroni equilibrio nelle relazioni cosa questa che i cristiani non potevano nemmeno allontanamente concepire in epoca imperiale Saturno fu identificato con Crono ma Crono è il mutamento il tempo nato dall'unione del cielo con la terra l'oggettività in cui manifestarsi Saturno è il guardiano anche se il suo fare induce al mutamento nella direzione delle trasformazioni del sistema sociale in cui vive Saturno è solo un essere umano Crono è l'essenza dei mutamenti il loro respiro l'abbinamento è avvilente sia per Crono che per Saturno Saturno fu accostato anche al Baal Fenicio Baal è il principio maschile della vita all'interno della natura un guardiano può essere indifferentemente uomo donna o gay il suo fare lo qualifica come guardiano non il suo sesso o le sue pratiche sessuali Baal è caratterizzato dal proprio sesso indipendentemente dal suo fare anche in questo caso l'abbinamento non è pertinente o la veggenza romana si stava spegnendo o il bisogno e la necessità del comando sociale si stavano accidenti o un libro monco si stavano raffinando dovendo soggiogare ogni espressione umana alle proprie esigenze la seconda ipotesi è quella reale all'arrivo dei cristiani le tale dell'oro era ridotta ad una favola che ogni adulto si vergognava a raccontare ai propri figli tanto lontano era il ricordo e tanto feroce era l'annientamento nel presente del principio speranza questa è l'immagine di saturno e non è un caso che le feste di saturno avvenivano esattamente in questo periodo ed erano dei grandi banchetti erano feste di sesso erano feste di piacere perché il piacere il divertimento e il godere fa parte dell'essere pagano se un pagano non vive di dolore il dolore viene affrontato soltanto come sfida non esiste la mitizzazione del dolore il pagano non deve costruire dolore il cristiano deve costruire dolore scusate il cristiano deve costruire dolore perché nel dolore li vive tutta la sua dottrina è basata sull'esercizio del dolore sulla gestione del dolore il pagano al contrario deve costruire la gioia affronta il dolore per sfida perché il dolore deve essere annientato per cui la vita per un pagano è una sfida mentre invece per un cristiano la vita è dolore allora tutte le feste tutte le feste pagane sono feste di gioia sono sono pranzi sono mangiare sono sesso sono tutto sono giochi nei circhi sono manifestazioni teatrali sono musiche sono canti sono sono danze perché il paganesimo vive la festa della vita è la festa della vita al contrario del cristianesimo che è costruzione del dolore e questa contrapposizione si è manifestata fin dall'inizio una delle cose una delle cose che i cristiani hanno tentato immediatamente di eliminare era la chiusura dei teatri la chiusura dei giochi circensi era la chiusura di tutte le feste possibili inimmaginabili l'unica festa che ha resistito il più a lungo di tutti fu i lupercali i lupercali furono l'ultima festa che i cristiani riuscirono a cancellare e questa festa dei lupercali fu cancellata da dal gelasio primo il corrotto un papa romano che aveva un odio ferocissimo per la vita ricordiamo che questo gelasio fu uno dei primi papi che stava elaborando il concetto secondo cui il compito del re dell'imperatore era servire la chiesa e imporre la morale della chiesa cioè la chiesa dettava le linee sociali le linee morali mentre invece il re e l'imperatore dovevano di fatto applicare queste linee morali queste linee sociali e questo gelasio primo non solo anientò i lupercali che fu l'ultima festa l'ultima festa pagana ad essere cancellata ma fece di peggio cioè oltre a questo cioè oltre al fatto di prendersela con le feste pagane fece di peggio cioè nel senso che se la prese anche all'interno al proprio interno e una delle cose che fece bruciare che fece distruggere fu fu l'apocalisse di Tommaso ricordo che tutte le apocalissi sia quella di Giovanni sia altre apocalissi gnostiche gnostiche vennero contrabbandate a Roma all'inizio del cristianesimo cioè nei primi 300 anni del cristianesimo come libri sibillini come libri sibillini cristiani come libri sibillini ebraici in pratica i libri sibillini erano talmente importanti a Roma che avevano costruito per tutto il periodo del paganesimo un equilibrio delle trasformazioni cioè se doveva succedere qualcosa di grave si consultavano i libri sibillini e i libri sibillini davano non è che dessero cosa fare ma davano la giusta misura fra l'evento e la soluzione dell'evento cioè l'evento non doveva mai essere vissuto in maniera catastrofica questo determinavano i libri sibillini i libri sibillini andarono distrutti durante l'incendio del tempio di Giove Capitolino credo un'ottantina d'anni prima di Cristo qualche anno prima dell'avvento di Silla dove noi come pagani o io più che noi come pagani in generale colloco la fine della costruzione del paganesimo e l'inizio della distruzione del sistema sociale romano prima e del paganesimo come religione dopo a quel punto il senato romano mandò la ricerca di nuovi libri sibillini e vennero portati dei nuovi libri sibillini i quali vennero bruciati a Roma dai cristiani cioè i cristiani hanno bruciato i libri sibillini pagani però hanno bruciato il secondo tipo non i libri sibillini che hanno costruito Roma quelli che il senato ha mandato a cercare dopo la distruzione dei libri sibillini li fece bruciare da Stilicone che era un generale un comandante di Teodosio bruciò i libri sibillini e in quel momento oltre a bruciare i libri sibillini la moglie di Stilicone violò il tempio di Giunone tolse la collana dal collo di Giunone e l'ultima l'ultima vestale professò una maledizione nei confronti della della moglie di Stilicone e da quel momento avvenne un processo in cui scomparve letteralmente l'altare della Vittoria di Giunone a Roma e secondo la maledizione della vestale questo sarebbe avvenuto quando i cristiani avrebbero perso il controllo della città bene questo altare fu riscoperto a Roma qualche anno dopo che Roma è stata liberata dal mio punto di vista è diventata italiana cioè quando lo stato italiano si è imposto sul papato sono stati riscoperti questi altari la moglie di Stilicone non gli è andata molto bene la moglie di Stilicone che ha violato Giunone ricordo che Giunone è la nascita è l'essenza stessa della nascita la testa a cui si aveva messo la collana tolta a Giunone cioè il simbolo della nascita Giunone gli è stata tagliata da una sua carissima amica che è Galla Placida va bene mi stanno facendo segno ampi ampi segni che siamo quasi arrivati alla fine io lascio tranquillamente i ragazzi che molto più dolcemente di me vi parleranno di cose diverse vi metteranno musica vi intratteranno in questa serata di Natale ricordo che il Natale sembra una festa cristiana ma ogni volta che fate qualcosa di diverso fate dei riti pagani bene io vi ringrazio e ascolto vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 dalle 15 alle 16 e dalle 19 alle 20 dove leggerò il libro di Anticristo dalle 15 alle 16 continuerò con i paganesimi e continueremo fino a individuare i due canti del mondo bene arrivederci e a risentirci e grazie che hai avuto pazienza fino adesso grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti